I quattro pilastri principali con cui la tecnologia è stata utilizzata per danneggiare cronicamente l'umanità sono la televisione, l'intelligenza artificiale, i social media e l'MRNA. Fino al secolo scorso la maggior parte degli esseri umani ha subito il lavaggio del cervello principalmente nell'acquisto di prodotti e servizi specifici, guardando la televisione, leggendo i giornali, osservando i cartelloni pubblicitari e frequentando il cinema. La propaganda era un meccanismo abbastanza lineare che serviva per influenzare gli acquisti di noi consumatori. Con l'invenzione di internet e dei social media tutto è cambiato. Notizie, prodotti, servizi, stile di vita, pornografia e, per ultimo, le scelte mediche vengono effettuate online dopo aver consumato l'intelligenza artificiale. È così che la tecnologia è stata creata e diffusa per danneggiare cronicamente l'umanità. E sta avanzando come uno tsunami che inghiotte ogni giorno una intera costa. L'apprendimento automatico regola quasi tutto ciò che gli utenti vedono di fronte a loro online, spesso in modi, non dico etici, ma dannosi. L'algoritmo dell'intelligenza artificiale regola il contenuto che si pensa di aver scelto per essere messo davanti agli occhi dell'utente, in modo da influenzare i suoi acquisti su prodotti, servizi ed informazioni, semplicemente in base a ciò di cui egli parla attraverso ciò che digita e cerca sulla tastiera mediante i dispositivi intelligenti. Sicuramente avete provato a parlare con un amico di qualsiasi cosa e poi, pochi minuti dopo, viene visualizzato un annuncio sul nostro dispositivo smart che propone esattamente ciò di cui abbiamo appena parlato. Questa è l'intelligenza artificiale. I dispositivi intelligenti registrano sempre, indipendentemente dal fatto che abbiate o meno la fotocamera, il microfono o l'app aperta o in diretta. Il software IA di Facebook analizza video, storie, foto e persino meme raccoglie i consigli per voi, aggiungendo alcune informazioni chiave e all'improvviso vi ritrovate ad acquistare ciò che Facebook vi ha detto di acquistare. Oltre a questo, fa sì che crediate a quello che Facebook chiama notizie. Il motore di ricerca di Google utilizza l'intelligenza artificiale per incanalare tutti lontano da qualsiasi informazione sulla salute naturale. E non solo. Google blocca, bandisce, censura e manda in bancarotta persone, aziende ed organizzazioni che non supportano la narrativa ufficiale. IA domina il panorama dei social media. Non fatevi illusioni. Crea falsi amici, falsi follower, falsi idoli. Le notizie false, le tendenze false scorrono a fiumi in tutti i pensieri dei giovani di oggi, di ieri e degli adulti, perché sono influenzati dal falso Dio tecnologico. Tutti i dati degli esseri umani vengono non solo raccolti, ma vengono classificati in base a dei precisi algoritmi. IA è riuscita a creare una malattia della mente, più che del corpo, e sta avanzando alla grande. Ieri qui in Italia abbiamo visto il solito 20% di votanti che da 50 anni, e oltre, si sposta da un partito all'altro per far vincere chi avevano già deciso vincesse. È un gioco che si ripete, ed io l'ho rivissuto, personalmente, come quando mi illudevo di vincere attraverso la crocetta della scheda che ponevo dentro l'urna. Carta morta. Ho appena detto che IA sta avanzando, e qualche ingenuo può pensare. No, guarda, Dino, le votazioni sono l'unico modo per cambiare le cose. Osservate qui. Il partito politico danese, guidato dall'intelligenza artificiale, guarda al Parlamento. Il partito sintetico vuole raggiungere il 15% e spera di candidarsi alle prossime elezioni generali del Paese nel giugno 2023. Ma c'è dell'altro. La tecnologia più malvagia che sta assediando la razza umana è la tecnologia mRNA. L'mRNA è una forma di intelligenza artificiale che inganna le nostre cellule, inserendosi nello stile cavallo di Troia. Modifica le loro istruzioni di produzione una volta per sempre. Con l'mRNA le cellule producono prioni proteici tossici. Lascio a voi immaginare cosa può succedere. Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo stanno sperimentando oggi gli effetti sperimentali dell'mRNA. Fate le vostre ricerche, ma non limitatevi ad usare Google. Esempio di come siamo. Noi siamo quello sulla bilancia. Siamo concentrati a vedere il nostro peso, il nostro comportamento sociale attraverso i media. Ma non siamo consapevoli che gli ingannatori, in questo caso Obama, stanno falsificando i nostri dati. Qui sta modificando col piede il peso. Purtroppo noi ci fidiamo dei dati, non di quello che succede alle nostre spalle, meglio dove poggiamo i piedi. E chi è stato eletto insieme ad Obama, è un esempio, sorride e si diverte a nostra insaputa. Grazie. Grazie.